... ... ... ... ... Abbiamo fatto prima 0 a 0 e siamo andati al primo ruolo. Quindi, come è successo qui, possiamo giocare. E fare quello che è importante. Non perdiamo palle. Per voler tenerla lì, fare un tocco, due tocchi, però si aggrediscono e così portano via la palla.